Molti dettagli restano da chiarire. La morte di Massimo Bevacqua e il docente originario di Rossano ucciso in Africa rimane avvolta dal mistero. La ricostruzione dei fatti non è ancora chiara. A quanto pare sarebbero state avvistate un paio di persone riprese dalle telecamere installate nei pressi dell'abitazione del docente in Nord Africa. Entrambi sembrerebbero essere italiani, secondo quanto riporta questa mattina il quotidiano Il Garantista. L'autopsia pare aver confermato nella giornata di ieri che lo studioso sarebbe stato bicchiato prima di essere strangolato. I suoi assassini avrebbero poi tentato di dare alle fiamme l'appartamento nel quale abitava. Intanto nelle scorse ore Abu Said in Tunisia sono stati celebrati i funerali. Poi la salma è stata riconsegnata alla famiglia per il rientro in Italia che dovrebbe avvenire nella giornata odierna. Le esecue si terranno a Rossano, città natia del professor Bevacqua, nel pomeriggio di martedì alle ore 16. Grazie a tutti.